A tutti voi buona giornata, ben trovati a questo appuntamento con il telegiornale di Telefriuli in apertura la cronaca con il tremendo incendio che è divampato poco prima dell'una di questa notte e che ha completamente distrutto lo storico stabilimento di pregiati tessuti della tessitura carnica. Gravissimi i danni riportati dallo stabilimento come potete vedere da queste immagini. 10 mezzi del Vigili del Fuoco hanno raggiunto lo stabilimento per un totale di 20 uomini impegnati. Hanno operato le squadre dei pompieri del distaccamento di Tolmezzo con supporti anche da Udine, poi i volontari di Rigolato e Cercivento. Per tutta la mattina sono proseguite le operazioni di smassamento. Sul posto anche i carabinieri. Sono stati proprio i militari dell'arma durante un passaggio in zona per il monitoraggio del territorio a notare le fiamme e a chiamare i pompieri. I Vigili del Fuoco sono arrivati immediatamente sul posto, hanno cercato di contenere il rogo evitando che potesse estendersi ad altri immobili. Avete visto le immagini che raccontano più di ogni parola degli effetti delle fiamme anche all'interno dello stabilimento. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Ne sapremo di più collegandoci in diretta con Villa Santina dopo il telegiornale durante la puntata odierna di A Voi la linea. Ed è morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Pordenone il 14enne originario del Ghana che una settimana fa si era sentito male dopo un tuffo nel fiume Meduna. Il suo cuore non ce l'ha fatta. È morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Pordenone nata nel Baffoe a Doma il 14enne originario del Ghana che martedì 14 luglio si era sentito male dopo un tuffo sul fiume Meduna a Pordenone vicino alla spiaggetta alla fine di via Levade. Il ragazzino era sul gretto del fiume con gli amici i quali a un certo punto lo avevano perso di vista dopo un tuffo in acqua. Dopo alcuni minuti il suo corpo era stato avvistato nel fiume e tirato a riva. Il ragazzo era stato soccorso da alcuni giovani presenti con il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca in attesa dell'arrivo dei medici i quali erano riusciti a rianimarlo sul posto ma le sue condizioni erano apparse disperate. Sul posto erano arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Pordenone. Dopo una settimana di speranze però il 14enne che viveva a Porcia dal 2011 dopo essersi trasferito da Pordenone è ispirato al Santa Maria degli Angeli. Troppo gravi i danni riportati dall'assenza di ossigeno al cervello per diversi minuti. In un primo momento il suo fisico giovane da atleta di basket aveva letto ma nelle ultime ore il quadro è peggiorato sempre più. La comunità purliliese si stringe attorno alla famiglia del ragazzo attraverso le parole del sindaco Marco Sartini. Abbiamo appreso oggi questa notizia triste, peraltro già da una settimana eravamo informati della situazione che era comunque molto grave, porto con le mie parole la vicinanza della comunità, la famiglia per questo duro colpo. Ci erano inseriti nella comunità, Porcia abitavano dal 2011 in un percorso di lavoro e anche scolastico quindi nella normalità del nostro vivere comune e anche per questo siamo ancora più dispiaciuti. Nonostante il triste epilogo il comune di Pordenone sta pensando a un riconoscimento per i ragazzi che hanno soccorso Natanel. Il loro gesto, anche come simbolo di generosità e integrazione, va premiato, dice il vice sindaco Eligio Grizzo. Mi sto attivando per contattare i ragazzi e ringraziarli pubblicamente. Tutte le forze in campo dalle 17 di ieri per cercare di ritrovare un ragazzo di 23 anni di Trieste che non dà notizie di sé da ieri mattina a dare l'allarme non vedendolo rientrare a casa. Sono stati parenti che hanno chiamato il 112, si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi. Si cerca il giovane sia in città dove tutto si concentra, dove stanno operando i carabinieri e la polizia di Stato. Ricerche anche nella zona della rotonda del Boschetto. E' proprio in quest'ultima località che è stato allestito attorno alle 20.30 di ieri un comando operativo distaccato dei vigili del fuoco. Chiunque avesse informazioni è pregato di chiamare immediatamente il 112. Le ricerche sono proseguite fino alle 22.30 di ieri e poi sono riprese questa mattina alle 5.30. E da questa mattina è iniziato il pattugliamento del perimetro dell'ex caserma Cavarzerani di Udine per effetto di un'ordinanza del sindaco. Da ieri nessuno dei 500 migranti ospiti della struttura può uscire. E' iniziato questa mattina il presidio delle forze dell'ordine lungo il perimetro dell'ex caserma Cavarzerani di Udine per garantire che i 500 migranti attualmente ospitati nella struttura rimangano all'interno. Questo prevede l'ordinanza del sindaco Pietro Fontanini firmata ieri. Impone il divieto di uscita a tutti gli ospiti. La misura è stata adottata a seguito della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto ieri mattina sotto la presidenza del prefetto Cuni il quale coordinerà insieme al questore le forze dell'ordine incaricate di sorvegliare l'ex caserma di via Cividale. Le pattuglie sono miste. A vigilare collaborano Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. Diversi cittadini della zona si sono rivolti alle forze dell'ordine in ottica collaborativa per segnalare i punti del perimetro della caserma dove spesso vengono notati migranti scavalcare muri e recinzioni per entrare o uscire dalla caserma in orari diversi da quelli previsti. Io ho segnalato i carabinieri anche. Vedete il transito? Ah, possono essere rovi, spine, non sentono niente. Sono come i gatti, vanno sopra il muro. Dopo magari la garetta alta là, renderla che non vadano sopra perché sono sempre lì. Sono sempre nel mio recinto dei cani e quindi sono a conoscenza un po' di tutte le cose che succedono al retro della Cavarzerani. Ha visto tanti scavalcamenti? Tantissimi, da parecchi anni. E' contento che ci siano le forze dell'ordine? Certo, ho già fatto i complimenti che mi hanno detto che sono H24, quindi speriamo serva a qualcosa. Non aveva accettato la decisione della fidanzata di lasciarlo e rifarsi una vita con un altro uomo e se l'è presa proprio con quest'ultimo, perseguitandolo, minacciandolo, aggredendolo in più occasioni, arrivando anche a brandire un bastone. E' stato arrestato per Stolking, protagonista della vicenda un 59enne d'origine marocchina, da anni residente in Friuli, cittadino italiano già noto alle forze dell'ordine. I fatti risalgono al periodo tra maggio 2017 e febbraio 2018, sono avvenuti tra Quileia e Cervignano. La vittima, un cinquantenne del luogo, aveva sporto denunce, ha fatto così avviare le indagini. Ieri, al termine del processo a carico dell'aggressore, il Tribunale di Udine lo ha condannato ad un anno di reclusione, riconoscendolo colpevole di Stolking. Ed ora un'altra notizia che riguarda l'imprenditore friulano morto in Slovacchia. L'autopsia prevista per oggi sul corpo di Loris Colusso è stata spostata a domani, in quanto i familiari dell'imprenditore trovato morto nelle acque del Danubio in Slovacchia hanno chiesto attraverso l'ambasciata italiana a Bratislava di inserire un perito di parte e di eseguire esami tossicologici. Dopo sei giorni della sua scomparsa nella capitale slovacca, ieri mattina il cadavere è stato trovato nelle acque del Danubio. E per concludere lo sport, la sconfitta contro il City e il contemporaneo successo dell'Aston Villa sull'Arsenal hanno fatto precipitare il Watford al terz'ultimo posto in classifica. Così la squadra dei Pozzo si giocherà domenica l'intera stagione contro i Gunners con la consapevolezza che un successo potrebbe anche non bastare. Il terzo cambio stagionale di allenatore non ha dato la scossa sperata al Watford che ieri, nel difficile confronto con il City, ha rimediato un poker che potrebbe essere fatale nella corsa alla salvezza. Gli Hornets, infatti, sono stati raggiunti in classifica dall'Aston Villa, vittorioso per 1-0 sull'Arsenal e ora in vantaggio sui giallonei grazie alla differenza reti. La scelta dei Pozzo di affidare la squadra Mullins per le ultime due gare dopo il KO targato Pearson contro il West Ham è sembrata da subito la mossa della disperazione. E adesso la situazione dei calabroni inglesi è proprio disperata. Il Watford domenica si giocherà l'intera stagione nel confronto in casa dell'Arsenal, appena sconfitto dalla Stone Villa. A sua volta la Stone Villa sarà ospite di quel West Ham che ha drammaticamente complicato la situazione in casa Watford e che grazie alla differenza reti di meno 13, il Watford è a meno 27 e la Stone Villa a meno 26, è ormai praticamente salvo. La permanenza in Premier della squadra dei Pozzo non dipenderà più solo dal suo risultato contro i Gunners. Gli Hornets dovranno necessariamente vincere segnando il maggior numero di gol possibile e comunque sperare in un risultato negativo della Stone Villa. Sta per chiudersi con un finale thriller, una stagione sportiva particolarmente tribolata e intensa per la famiglia Pozzo che il 26 luglio vivrà una domenica di fuoco. Da una parte il Watford alle 19 ore italiana, dall'altra l'Udinese che mezz'ora dopo inizierà la propria partita a Cagliari. Era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento in diretta con A voi la linea. Arrivederci. A voi la linea.